I corsari all'attacco del castello dell'isola del Giglio, questo è il titolo della mostra allestita alla Rocca Pisana fino al 22 settembre. Per la prima volta sull'isola viene esposto il plastico che riproduce fedelmente il borgo come era nel 1799. L'esposizione ripercorre quasi quattro secoli di scorribande e raffie che si sono succedute dal XV secolo fino a quel fatidico 1799 quando gli abitanti del Giglio scacciarono oltre 2000 pirati tunisini. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 16.